20.000 euro a Caltanissetta per realizzare i progetti e costituire tre comunità energetiche. I fondi stanziati della Regione finanzieranno 301 comuni, incluso quello nisseno, per traguardare l'obiettivo delle comunità energetiche. Così l'assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità al Dipartimento dell'Energia ha coinvolto i comuni della Regione che hanno aderito per sviluppare progetti che consentano la costituzione di almeno due comunità per territorio. Tra i capoluoghi di provincia e i contributi più alti sono stati assegnati alle città di Palermo per 63.398 euro e di Messina per 33.196 euro, a seguire Siracusa con 27.804 euro e Ragusa con 22.730. A Caltanissetta vanno 20.867 euro, ad Agrigento 20.228 e Enna 15.017 euro. Un elenco di comuni ammessi pubblicato con decreto dopo l'approvazione delle istanze che è consultabile sul portale istituzionale della Regione siciliana. I comuni ammessi alle agevolazioni potranno ottenere dal Dipartimento dell'Energia che è un'anticipazione del 40% del contributo totale e l'amministrazione regionale accompagnerà gli antilocali nelle diverse fasi del processo fino alla costituzione della comunità. Abbiamo presentato la nostra richiesta per avere un finanziamento per la progettazione di tre comunità energetiche sul nostro territorio che ci è stato accordato. Abbiamo avuto un finanziamento di circa 20.000 euro che serviranno per redigere i progetti per la costituzione delle comunità energetiche a Caltanissetta. È una cosa molto importante perché soprattutto in questo momento in cui la problematica dell'energia comincia a diventare così importante e diffusa anche tra la gente comune queste attività sono fondamentali per aiutare a risolvere seppur anche parzialmente, però sono dei passi importanti per risolvere il problema energetico anche della nostra città. Una volta pubblicato il decreto di finanziamento il comune adesso potrà richiedere l'anticipazione del 40% costituire e predisporre gli atti per la costituzione della comunità energetica che dovrà essere approvato in consiglio comunale. sarà emesso un apposito bando, una manifestazione di interesse per chiedere ai cittadini che vorranno partecipare alla comunità energetica e quindi di conseguenza avviare i veri e propri lavori per poterla realizzare.